Presidente, un traguardo storico per la Puntotels alla Consilina che ha conquistato sabato la B1 con quattro giornate di anticipo. Sì, una bellissima prestazione delle nostre ragazze hanno concluso questa nostra grandissima esperienza che abbiamo portato avanti. Una vittoria schiacciante con il divino amore a Roma ha consentito ovviamente di conclamare la vittoria definitiva matematica. Questa è una grandissima gioia vissuta insieme a tutti i tifosi che ci hanno seguito. Eravamo forse superiore a un centinaio di persone. Abbiamo creato un momento anche di folclore nel palazzetto del divino amore dove tutti insieme, anche quelli del divino amore, hanno festeggiato insieme a noi in un modo simpatico, democratico, aperto. Veramente abbiamo vissuto momenti molto molto emozionanti, una cosa che ci ha riempito di gioia e forse si cominciano a ripagare gli enormi sacrifici che tutti stiamo facendo. Quindi non è solo riferito alla dirigenza ma tutti coloro che stanno vicino a questa realtà. Il Gironi F infatti vi vedeva penalizzati perché avevate molte trasferte tra il Lazio e la Sardegna. Invece poi queste trasferte e questi sacrifici sono stati ripagati dalla conquista della B1. Sicuramente non c'è assolutamente paragone per i chilometri che abbiamo percorso l'anno scorso e quelli di quest'anno sono più del doppio. Siamo sicuramente a intorno a 10.000 chilometri in più come trasferte. Quindi vi lascio immaginare a tutti quanti sono i costi e il peso economico di questa gestione. Ma a questo punto bisogna anche sorridere alla sorte che ha girato per noi, alla capacità, all'entusiasmo che ci abbiamo messo tutti. E questo ci dà la forza a tutti quanti noi, la dirigenza e tutti coloro che ci stanno vicino e soprattutto agli sponsor di credere in questo progetto, di credere in questa iniziativa per tutto il territorio del Vallo di Viano.